Pertanto mi astengo sulla mozione Marconne ed altri. Grazie. Scritto a parlare il deputato Di Battista. Il Movimento 5 Stelle entrerà in Europa per cambiarla, per renderla trasparente con decisioni condivise a livello referendario. Colleghi, lasciate con... State zitti, rosiconi. Tranquilli, tranquilli. Si è rifatto con il referendum che ha smentito le vostre critiche a Pueriri e gli attacchi regei. Mi stanno interrompendo, mi faccia parlare. Ho già detto che devono tacere, lei conclude. Grazie. Oggi l'Unione Europea, per colpa vostra, dili traditori della sovranità popolare, energetica, monetaria, è un club med infestato dalle lobby. Ed è colpa vostra, è colpa di Boccia Francesco che ha votato a favore del fiscal compact del MES dell'approvazione della legge costituzionale in bilancio. È colpa di Pocuzzi Antonio del Partito Democratico. È colpa di Fabrizio Cicchitto del nuovo centrodestra che votò a favore del fiscal compact e della legge costituzionale del pareggio di bilancio. Di Cesare Damiano che poi difende i lavoratori del Partito Democratico che votò a favore del fiscal compact. È scritto a parlare il deputato Boccia.